Salve a tutti amici sono Paolo Fiat e oggi guardate che raccolto che ho fatto salvia veramente bella la storia di questa piante di salvia non ve l'ho mai raccontato comunque era una salvia che buttavano via perché dovevano fare altri lavori su questo campo quindi la buttavano via in questo posto la salvia, le piante di salvia e praticamente sono state potate tutte rase per terra ho portato a casa solo la radice con i ramettini l'ho piantata e ha fatto questo qui, l'anno scorso l'ho piantata nel 2022 diciamo 2022 sì guardate che belle foglie di salvia grandi queste cose sono ottime da fare fritte impendro con un filo di olio così che diventano croccanti ma quello che andrò a fare io è fare uno o due mazzi legarla con lo spago, metterla a testa in giù quindi così guardate a testa in giù così e andare a essiccarla quindi la metto sotto un portico, la lascio il tempo che serve così la foglia si affiappisce e inizia a seccare poi con le mani quando è secca togliamo le foglie e le schiacciamo che si macinano che si frantumano e poi le conserviamo in un vaso di vetro e all'occorrenza possiamo usare la nostra salvia secca questo si può fare un po' con tutte le piante aromatiche, io la faccio con la salvia perché ho logicamente salvia da utilizzare ecco quindi io la faccio con la salvia questo è il campo di salvia, siamo al campo la coltellazione di salvia che ho io guardate sono questo adesso non mi ricordo più quante piante sono, una era anche morta ma comunque sono veramente belle ho tagliato solo questa parte qui vedete che veniva in fuori verso l'erba e basta ecco qui l'ho un po' rotta l'altro giorno purtroppo fresando qui l'ho un pochettino rotta ma non è un problema perché comunque adesso nei prossimi giorni faremo la pulizia qui delle foglie ecco del fogliame eccetera eccetera e poi logicamente comunque la pianta comunque nel periodo invernale riposa poi nel periodo estivo prossimo primaverile si risveglia e inizia a rigermogliare e farà veramente di belle germoglie ecco vedete abbiamo un po' dato del fastidio ma comunque vedete questa roba qui la buttiamo via quella che non va bene la buttiamo in compostiera oppure la mettiamo in mezzo a un camminamento che si macera e basta ecco questo è un pochettino il video veloce che volevo fare oggi per farvi vedere questa cosa perché eccezionale vedete qui comunque vedete qui comunque questa cosa qui che vi voglio far vedere e un'altra cosa qui importante guardate questo qua guardate questo come sta rigettando qui guardate come sta rigettando se noi lo tagliamo qua facciamo un esempio lo taglio qua così e rilascio tutti questi germoglietti qui sotto riparte e viene fuori comunque un'ottima pianta ecco vedete è veramente eccezionale comunque la salvia è una pianta aromatica secondo me la migliore tra tutte le piante aromatiche per utilizzo in cucina perché comunque con le carni con gli arrosti con tante cose le potete mettere anche con i formaggi la potete usare benissimo ecco comunque è una bellissima pianta che ti dà ottimi risultati ecco vedete è una bella pianta tranquilla tranquilla che ti dà degli ottimi risultati senza troppe cure qui non è mai stata concimata irrigazione quest'anno ha piovuto l'anno scorso l'irrigavo tramite il scorrimento l'acqua scorreva qui così per terra e poi si allagava il tutto quindi acqua ne prendeva e basta ecco pianta rustica e niente così io vado a mettere a legare i mazzi della mia salvia per farla metterla seccare e niente buon conservazione che vuoi delle vostre erbe e niente da poi le fette tutto alla prossima